Allora, soltanto per introdurre in mostra, effettivamente non c'è molto, diciamo, non c'è un'opera di Steinberg, ci sono due copertine. Però il fatto è che effettivamente Steinberg significa qualcosa di importante per Calvino. Prima di dare la parola a Claudio faccio una piccola cornice. Tra i testi dedicati all'arte, Steinberg, dedicati da Calvino all'arte, sta sia tra i saggi sia tra le narrazioni. Quindi è una collocazione a cavallo di due territori. E effettivamente, più che il testo narrativo, che in alcuni casi, nel caso di Gnoli, nel caso di De Chirico, ha un suo peso notevole dentro la poetica di Calvino, riguardo all'arte, al visivo, Il saggio è veramente una delle cose importanti dedicate da Calvino. C'è una storia, la storia comincia appunto, comincia già dagli anni 40, perché Calvino pubblica quattro disegni sulla rivista Bertoldo, dove Sol Steinberg era il disegnatore per eccellenza. Calvino era molto giovane, stava a Sanremo, ha mandato questi disegni che sono entrati grazie a Giovanni Guareschi, che tra l'altro poi, oltre che essere l'autore del Don Camillo, disegnava anche. Insomma, c'è tutta una generazione molto interessante, molto strana, molto curiosa, che ha praticato il disegno. In quelle pagine il disegnatore più assiduo, giovane anche lui, è Oreste del Buono. Cioè il numero più elevato di disegni, sfogliando le pagine del Bertoldo, poi Steinberg a un certo punto se ne va, va a Settebello, seguendo Zavattini, e poi cercherà di andare in America, insomma, in quanto ebreo. Quindi, cosa che gli riuscirà è che il passaggio dall'Italia sarà un passaggio molto importante, perché Sol Steinberg arriva dalla Romania come studenti di architettura l'anno che si apre l'architettura. E l'architettura italiana, diciamo, dopo la Bauhaus, e comunque in quel contesto molto curioso, che sono, insomma, gli anni 20-30, è probabilmente l'architettura più importante al mondo. E nell'epoca fascista, insomma, Roma ne contiene tanta di questa architettura, ma, insomma, anche Milano è un baricentro importantissimo. Ecco, poi anche lì adesso è uscito un libro che è dedicato a questi architetti che erano fascisti e poi diventano antifascisti nel corso, diciamo, della guerra dopo il 43. È la modernità, ecco. Sol Steinberg ha avuto la fortuna di capitare lì in quel momento, e poi altre fortune, tra cui quella di riuscire, passando da Santo Domingo, ad andare negli Stati Uniti, con uno sguardo assoluto, nuovo, insomma. Allora, questa è soltanto la premessa. Poi il legame, dopo lo proverò io a tracciarlo un po' del rapporto tra loro due e focalizzando, soprattutto su questo testo, la penna in prima persona. Allora, quindi ti do la parola, Claudio. Grazie prima di tutto, Marco, e scusi di Quirinale per l'invito. A proposito di penna, hai citato una penna, io deliberatamente ho scelto questa immagine che non è Guido Cavalcanti, citato da Calvino, naturalmente, ma più sempre è un autore, Emiliano e Tommaso da Modena, a Treviso. L'ho scelta perché, come vedete, si dimette proprio una penna. La penna, o più esattamente la penna è il coltellino di cui parla Cavalcanti in Calvino, naturalmente. Insomma, non è il tempo di Cavalcanti, ma siamo pur sempre nel XIV secolo. La penna. Ecco, l'incontro con Steinberg, io volevo proporvelo in maniera un pochino singolare, cioè questa, in maniera, diciamo, indiretta, se volete, trasversale. Ecco qua. Forse ho saltato una. Sono dei fotogrammi, come vedete, molto singolari e molto eterogenei, mi sapevo il termine giusto, di un oggetto molto particolare che è uno dei tanti straordinari, se mi permettete, fallimenti di Orson Welles. Allora, è quello che tecnicamente si chiama pilot episode, cioè quando si lancia una serie, qui siamo nel 58, ma il meccanismo più o meno è lo stesso, quando si lancia una serie si fa un episodio prova. Questo episodio prova, destinato a un network ABC, siamo nel 58, questo episodio prova si chiama Portrait of Gina, dedicato a Gina Lollobrigida. Quindi, vedete, stiamo facendo un percorso molto inaspettato, credo, da parte di molti. Ebbene, in questa prima parte di questo pilot episode, c'è di tutto, come vedete, c'è Anna Magnani, c'è Gina Lollobrigida, notati in manifesto, ci sono manifesti strappati, sembra di vedere cose di Mimmo Rotella, di anni un pochino più tardi, magari, e c'è Orson Welles, cioè c'è lui, non è una novità, naturalmente. Lui disse, questo è un personale sé, questo per me è un saggio, non è un episodio televisivo, è molto di più per lui. Ora, lui parla di, di cosa parla? Per parlare di Gina Lollobrigida parla di Italia, parla di Italia, ma c'è dentro di tutto, c'è, come vedete, e questo mi sembra uno degli aspetti più interessanti che, vorrei anticipare, lo accomunano a quello che è il percorso di Steinberg, appunto. C'è dentro di tutto, c'è dentro Eleonora Duse, c'è dentro Rossano Brazzi, lo vedete là in alto e al centro, c'è Maria Callas, c'è lui stesso, l'abbiamo già visto prima, insieme alla moglie, Paola Mori. Si parla di Italia e si parla di tanto di gesti italiani, no? Sapete che all'estero siamo presi in giro a torto ragione perché siamo considerati più gesticolanti del mondo, no? Forse è vero, forse non è vero. Però Welles, vedete, punta l'attenzione su questo nostro gesticolare. In questo paese dice se vuoi assistere a uno show non devi andare a teatro e dice Paola Mori, aggiunge, che pure è italiana, in inverno le conversazioni finiscono perché in Italia si devono tenere le mani in tasca. Insomma, questo qui è il clima del... E a un certo punto, ecco cosa succede, che Paola Mori, sono seduti a un caffè, insomma, sono in Italia, e a un certo punto Paola Mori tira fuori uno dei famosi volumi di Steinberg, The Passport, se non sbaglio, e naturalmente viene citato, e loro sfogliano il libro. Ecco qua, sfogliano il libro. Perché lo sfogliono adesso? Perché si vuol parlare degli italiani. E si mostra esattamente questo, che vedremo dopo in una copia migliore, naturalmente, la Galleria di Milano. La Galleria di Milano è, naturalmente, come adesso intuite, ma lo vedremo meglio più avanti, ecco, gli italiani che gesticolano. E Steinberg, vedete, si sofferma su questi gesti o gestacci, c'è anche dei gestacci, che gli italiani compiono, non a Napoli, ma a Milano, anche se prima si parlava anche di Napoli. Poi, a un certo punto, cosa succede? Ecco, vedete gesti vari, più o meno chiari. Questo gesto che vedete che Steinberg ha notato, ma che è un gesto anche, per la verità, anche degli ebrei. Nel 1941 era uscito questo famoso saggio, che spiegava come certi gesti erano comuni, negli Stati Uniti, degli ebrei trapiantati negli Stati Uniti, degli italiani, che si parla, che si può toccarsi. Steinberg, vedete, è estremamente puntuale, estremamente attento. E va avanti Orson Welles. Perché? Perché è talmente colpito da questo modo di disegnare di Steinberg, che cita altri, riporta altri disegni. Perché, dice, gli italiani, i non italiani, sono i più repressi, i più inibiti, e appunto mostra questi disegni anteriori al 1958. Anche questo è un altro disegno del nostro Steinberg. Vedete questi uomini come ingagliofiti, come tutti quanti chiusi in se stessi, tutti coperti, nascosti, mascherati. Tenersi dentro, dice lei, tenersi dentro i sentimenti non fa bene, e cita sempre questi disegni di Steinberg. e invece gli italiani sono quelli che fanno il loro personale teatro, hanno il loro personale teatro, e cita ancora Steinberg, e il loro teatro li fa star bene. Così è il senso della... Ecco qua. Questo è appunto il disegno che piace tanto a Orson Welles. È un disegno del 51, ma come ci fa prima Marco, con la storia, il rapporto Steinberg-Milano-Steinberg-Italia, era cominciato prima. Era cominciato quando lui appunto abbandona, lui è nato vicino a Bucarest, in Romania, figlio di una famiglia della Medioborghesia, suo padre, se non ricordo mai, era un tipografo. Si iscrive, visto la situazione rumena, si iscrive a Milano, decide di spostarsi, di iscriversi al Politecnico di Milano, riuscirà faticosamente a laurearsi nonostante le regi razziali del 1938, comincia a collaborare, l'ha già detto Marco prima, con questa rivista che è guidata da Guareschi, da Zavattini, prima di tutto Zavattini, il Bertoldo. Qui vedremo alcuni di questi disegni. e poi c'è questa vicissitudine complicatissima delle spate, del tentativo di uscire dall'Italia, viene anche rinchiuso in un campo di... è internato di fatto, Toretto mi sembra, in Abruzzo, e riesce a uscire. Insomma, è tutta una serie di vicende faticosissime per ottenere il visto dagli Stati Uniti e finalmente, quando già per la verità ha avuto contatti con gli Stati Uniti, è già riuscito a pubblicare, insomma, su Life, questo settimanale così importante negli Stati Uniti, anche su New York. Insomma, comunque, lui riesce a uscire e manterrà sempre questo contatto con l'Italia tramite in particolare questo amico degli anni milanesi che è Aldo Buzzi. Guardiamo un attimo alcuni di questi disegni, questo qui è del 51, però è... ecco questo qui, è molto bello perché Milano, Via Pascoli, numero 1936, from memory, painted for memory, cioè a memoria, a memoria, è un diritto del 70. Quindi qui c'è un soldato col fez, se non sbaglio. Insomma, è una ricostruzione degli anni milanesi e in particolare di questo bar del Grillo in cui lui, accanto al quale lui viveva, e quindi che è un punto che viveva lì sopra appunto è un punto di riferimento per la topografia sentimentale anche di Steinberg. Ecco Bertoldo e qui su queste vignette che servono così banali, così semplici, così a prima vista ci serve molto da dire, in realtà moltissimo da dire. Prima di tutto perché ecco lui qui utilizza uno schema sperimentatissimo, lui sta inscrivendosi in un genere, si è detto tante volte giustamente Steinberg è difficilissimo da classificare, certo è difficilissimo, ma se uno ci pensa il mondo dell'illustrazione, il mondo del disegno per meglio dire, è un mondo che aveva già visto figure molto difficili da classificare, ne cito due, Homme Redomie, Homme Redomie scrive per una rivista umoristica, Le Charivari, ma fa anche cose come dire extra, per esempio fa lo scultore, fa lo scultore in piccolo, in miniatura, no? Un altro, Toulouse-Lautrec, Toulouse-Lautrec, siamo qui passati dalla fine dell'Ottocento, ma Toulouse-Lautrec scrive per riviste, se voi vedeste le riviste, tra l'altro sono online, se vi interessa guardare le riviste su cui pubblicava da Toulouse-Lautrec che sono online, le RIR in particolare, si possono sfogliare pagina per pagina e uno vede clamorosamente anche il dislivello fra una figura come quella di Toulouse-Lautrec e quella degli altri illustratori, però lui si mette qui dentro, lui si inserisce qui dentro, lo schema è proprio uno schema prefissato, il titolo, la vignetta e la battuta, questo qui è lo schema, è uno schema vecchio ormai si può dire più di un secolo senza altro più di un secolo e come è vecchio guardate se ne trovano adesso non voglio esagerare ma centinaia nelle riviste intendo dire umoristiche francesi, tedesche, inglesi, forse anche italiane si trovano tantissimo queste vignette sull'arte vignette sull'arte cioè si gioca continuamente sull'arte in queste riviste fra otto e novecento e anche qui si gioca sull'arte se non che come vedete ci sono in particolare in questa qua c'è un tocco che già ci rivela lo Steinberg che verrà dopo lo Steinberg della parodia del gioco del gioco raffinato come in questo caso là in alto a destra c'è come dire chiedo scusa passo un attimo indietro c'è una concessione alla borghesia che sa il latino insomma ars longa vita brevis tutti sanno queste cose nel mondo chi ha fatto il liceo sa queste cose qua c'è questa concessione però là in alto a destra c'è la citazione di un Picasso con una piccola firma quindi insomma siamo davanti a una figura che ci abitua ci prepara questo suo continuo gioco con il mondo dell'arte e con il mondo che sta attorno a lui dicevo prima Domier fa lo scultore ecco lui fa qualcosa d'altro non è semplicemente un disegnatore anche se il disegno come si vede anche qui è al centro delle sue chiamiamole operazioni come vedete sono disegnate anche queste figure su una vasca da bagno o su una poltrona siamo negli anni 49-50 e anche queste queste fotografie vedete sono come chiamarle piccole installazioni non so poi neanche come chiamarle insomma c'è il disegno sono oggetti animati anche questi in qualche modo è il tema vecchissimo ormai degli oggetti che prendono vita che si muovono che ti guardano ecco qua sempre gli oggetti siamo sempre negli anni 50 ecco e voglio fermarmi un attimo su questo disegno su questo disegno che come dire sembra passano gli anni e come capita sempre con le immagini noi facciamo molta fatica a capire esattamente di cosa si tratti qui la didascalia che si usa di solito per questo disegno è la donna caramella in realtà le cose sono un pochino più complicate e provo a spiegarvi perché faceva parte questo disegno di una vi chiedo scusa per la qualità ma è l'unica che ho trovato la vedete qui la donna tra virgolette caramella questa qua faceva parte di due pagine di un libro di disegni di Steinberg intitolato The Art of Living in cui si parla molto di design della casa degli interni però c'è anche questo ora qui direi si capisce molto bene come lui giochi proprio il tema della parodia la parodia letteralmente è un canto improprio è un canto parallelo è un prendere in giro cosa sta prendendo in giro sta prendendo in giro qualcosa e io credo sarei piuttosto sicuro sta prendendo in giro questo sta prendendo in giro quello che accadeva nel cinema nell'illustrazione nei manifesti guardate che è una campionatura molto limitata giusto per stare in questi anni qui 49 la donna sollevata la donna sollevata perché perché la donna permettetemi è leggera la donna per definizione è leggera la donna nella storia della cultura io direi addirittura 6 700 800 e per definizione la leggerezza e voi capite benissimo che il tema della leggerezza è una doppia faccia c'è una leggerezza di peso di corpo e una leggerezza di spirito naturalmente siccome la donna è leggera è anche una donna debole e la donna debole deve essere sollevata e l'eroe naturalmente stiamo parlando degli eroi degli anni 40 l'eroe solleva sempre la donna e questo qui sono due attori una foto su Life una rivista su cui scrisse anche Steinberg proprio del 49 vedete l'attore muscoloso robusto forte che solleva a modo suo e infatti Steinberg vedete che tanti modi di sollevare tanti modi di sollevare quindi qui prende in giro proprio un certo spirito del del tempo un certo spirito del suo tempo con cui gioca però qui vedete passano gli anni e occorre la filologia a questo punto mi sembra di dire cioè se non troviamo esattamente il referente di Steinberg non riusciamo a capirlo quindi donna caramella sì e no nel senso che è donna sollevata donna sollevata forse ne ho anche delle altre no ma ce ne sono tante altre donna sollevata a cominciare dall'antichissima tradizione appunto della della sposa che per entrare in casa veniva sollevata già nell'antica Roma insomma ecco ecco ha fatto quindi non è è difficile classificarlo certo ha fatto tante cose ha fatto anche questo oggetto che non esiste più il labirinto dei ragazzi del 54 a Milano della triennale di Milano io non conosco i motivi per cui venne abbattuto ma forse li conosci tu senza te lo conosci tu era una cosa temporanea a temporanea si decisero di toglierlo era nel giardino lì fuori proprio a ridosso dell'antica come vedete gioca con oggetti con materiali estremamente vari insomma l'opera tre soldi vog del 54 e qui c'è un altro tema che in qualche modo ci avvicina a Calvino che è quello ma ci riporta anche a Wells cioè non so come se il termine sia esatto ma insomma il pluristilismo insomma il riuso di stili il confrontarsi con stili diversi qui vedete il gioco è questo cioè il pittore che ha notate un'iconografia da pittore torno indietro in tutte le riviste di cui parlavo prima il pittore ha una sua iconografia cioè non è una figura come tutti il pittore è diverso ecco come è il pittore addirittura con questo gesto un po' come dire retorico il pittore in un contesto assolutamente fine otto inizi nove che però disegna come Mondrian questo gioco che continuamente ci propone questo mescolare come dire le carte e questo Rosenberg questo Harold Rosenberg in un saggio di anni 70 disse benissimo di Steinberg è uno scrittore di immagini è uno scrittore di immagini effettivamente lui qui cosa fa qui è una specie di antropologia questa cioè tecniche per tecniche a un party che significa direi tecniche comportamentali a un party già negli anni 30 negli Stati Uniti e in Europa erano usciti saggi su quello che era appunto quelle che erano le tecniche del corpo Marcel Moss 32 36 tecniche del corpo come io muovo il mio corpo in certi contesti ora qui come vedete c'è le tecniche del corpo ci sono stili diversi ci sono forme diverse per indicare personalità diverse atteggiamenti diversi comportamenti maschili o femminili diversi in un party siamo sempre negli anni 50 53 questo usare forme o addirittura tecniche vedete usare la penna usare la matita in modo diverso serve per indicare come vedete qui personalità diverse caratteri diversi antropologie se volete diverse addirittura quando c'è il bambino ecco il disegno dei bambini ecco il disegno infantile questo naturalmente erano gli anni questi gli anni 60 in cui uno come Goffman era in Goffman stava studiando quello che era il comportamento in società come ci si maschera eventualmente nei rapporti relazionali nelle relazioni sociali in pubblico vedete il tema della maschera naturalmente è un tema che lui propone diverse volte il tema della città che ci stiamo avvicinando naturalmente mi sto avvicinando voluzionalmente alle tematiche di Calvino il tema della città ecco qui appunto il il rapporto Calvino Steinberg di cui ti lascio parlare a questo punto prendo io la parola allora beh partiamo proprio dal disegno di una pietra sopra questa è l'edizione francese che diverge un po' dall'edizione italiana diciamo nella costruzione nella composizione dei saggi allora una pietra sopra mettere una pietra sopra insomma sono i saggi di Calvino sostanzialmente dedicati arte letteratura e politica che si fondono insieme nell'esperienza di Calvino diciamo del dopoguerra ecco è il Calvino che va come dire alla ricerca di una strada che comincia appunto con sostanzialmente con l'esperienza all'ennaudi la militanza comunista e poi e poi arriva fino al 68 il cambio di passo che il 68 impone un 68 vissuto in parte a Parigi in parte in Italia e la decisione di chiudere con questi saggi sono solo due i libri di Calvino dedicati ai saggi questo è una pietra sopra che sono due raccolte completamente diverse però molto vicine e molto emblematiche allora che cosa vuol fare Calvino vuol fare vuol mettere una copertina e scrive questa lettera a Sol Steinberg c'è già un pregresso che adesso non racconto subito Steinberg era molto una persona molto diffidente rispetto agli scrittori poi in media perché era già uno scrittore lui e quindi aveva una sorta di diffidenza non gli piacevano i testi dei critici d'arte e Calvino aveva già insomma aveva tentato un approccio verso Steinberg Steinberg un po' l'aveva respinto ma insomma alla fine Calvino gli scrive così come copertura una lettera del 15 aprile 1980 per spiegargli come mai ha messo un suo disegno in una pietra sopra come copertura c'è un tuo disegno nel quale identifico la storia della mia vita la storia della mia vita un cavaliere parte alla caccia dei mostri e viene travolto da una valanga che ha la forma del mondo e tutto il suo peso con il tuo disegno il mio libro acquista senza senso senza bisogno di nessuna introduzione allora questo è un disegno che Steinberg aveva già fatto tempo prima allora il coccodrillo è un personaggio di Steinberg che ritorna più volte anche qui insomma c'è una specie di antropologia perché insomma il coccodrillo è anche un essere umano poi c'è una storia di lui con Solbelov che vanno su una barca in un posto dove ci sono i coccodrilli e quindi racconta questa avventura in una lettera ad Aldo Buzzi il cavaliere è il cavaliere insomma diciamo l'araldica di Calvino e poi c'è questa pietra insomma la pietra sopra il peso del mondo la leggerezza ecco agli occhi di Calvino Steinberg esprime questa leggerezza la parte leggera del pesante che cos'è questa parte pesante beh è la vita cioè quello che per Calvino è la cosa peciosa che si appiccica è la penna che comincia a riempirsi di pelucchi insomma è l'abrasione che noi facciamo con la realtà questa strusciare le cose a fatica insomma anche camminare che sembra una delle cose più facili si diventa vecchi e si smette di camminare e poi si muore ma il camminare che è il correre dei ragazzi dei giovani eccetera è però è fare attrito con la realtà ecco questo è un elemento che Calvino sente sempre molto molto presente e Steinberg con la parodia che è un altro tema anche questo calviniano sicuramente diciamo la parte finale quando esce dagli schemi entra ed esce dagli schemi continuamente insomma la recita invisibili entrano su una notte d'inverno viaggiatore passando attraverso il castello dei destini incrociati c'è un elemento tra il serio e il faceto un elemento parodico un elemento anche umoristico un elemento anche che esprime il conflitto in un'altra forma e quindi questo peso del mondo insomma questa è l'altra cosa l'altro è una scelta che ha la scelta calvino questa copertina ed è l'uomo che disegna se stesso e disegna il mondo insieme insomma è disegnato e disegnante ecco continuò diciamo il tema calviniano del meta cioè dell'elemento sopra insomma il romanzo che parla del romanzo diciamo il labirinto dentro il labirinto per Calvino non sono spazi uno sopra l'altro ma sono spazi uno dentro l'altro cioè è uno spazio ricavato ecco è un ampiamento di uno spazio ricavato dunque le città invisibili sono sono così ecco sono dentro non sono fuori come normalmente si crede ecco qui è il disegno del mondo perché il mondo è un disegno del resto il testo più importante di Calvino che è appunto quello dedicato a Sosteinberg contiene una una citazione dai dialoghi romani di Francisco de Olanda cioè che sono le trascrizioni ecco se tu hai poi no no perfetto perfetto che sono le trascrizioni di Michelangelo insomma è una delle prime interviste che sono state pubblicate al mondo perché è un genere che poi è cominciato in realtà soltanto nell'ottocento l'hanno cominciato i francesi con la cosiddetta visita a studio ma insomma beh in effetti De Olanda è andato a visitare Michelangelo che scrive così e Calvino proprio trascrive in corsivo all'interno di una penna in prima persona la penna in prima persona potremmo stare solo su questo titolo ecco dove c'è l'oggetto la persona prima quindi in prima persona è l'io il famoso io insomma che è questo pidocchio come come diceva Gadda che è il tema calviniano insomma di esserci senza esserci di essere autobiografico senza autobiografia vera un io che però poi diventa un tu insieme una notte d'inverno un viaggiatore allora il pezzo che cita che trascrive che fa suo che cita almeno due volte nella sua opera Calvino talvolta io penso immagino che tra gli uomini esiste una sola arte e scienza arte e scienza anche qui sono legate da che cosa dal disegno io penso talvolta io penso immagino che tra gli uomini esiste una sola arte e scienza che questa sia il disegnare o dipingere quindi è una scienza ed è un'arte insieme il disegno e che tutte le altre siano sue derivazioni no del resto anche diciamo è il rinascimento questa cosa ecco che è una definizione breve del rinascimento certamente infatti ben considerando tutto quello che si fa in questa vita vi accorgerete che ognuno senza saperlo sta dipingendo questo mondo sia nel creare e produrre nuove forme e figure come nell'indossare i vari abbigliamenti la moda è perfettamente dentro sia nel costruire e occupare lo spazio con edifici e case dipinte occupare lo spazio come nel coltivare i campi nel fare pitture e segni lavorando la terra l'Italia è il luogo antropizzato totalmente cioè non c'è l'hanno disegnato i romani con le centuriazioni tutta la pianura è disegnata ma anche le montagne sono disegnate credo che siano pochissimi e forse sono negli ultimi settant'anni con l'abbandono del lavoro contadino e nelle montagne è tutta disegnata l'Italia non c'è un paese al mondo che sia così a volte anche con cose brutte anche con occupazione di spazi di edifici orrendi però è anche questo è comunque un disegno perché non c'è mai un giudizio morale in queste cose naturalmente per Michelangelo non esisteva uno spazio conformato come lo vediamo noi oggi nel navigare i mari con le vele da cui si capisce perché il pezzo la penna in prima persona comincia con una citazione comunque con un'immagine presa da Galileo Galilei che anche questa è un'immagine paradossale per spiegare il fatto che la terra comunque è rotonda e che quindi c'è un orizzonte oltre il quale si va e c'è l'immaginazione di questa nave con una penna attaccata come se fosse possibile disegnare sul mare insomma disegnare sull'acqua però anche questa è una cosa straordinaria nel combattere e dividere le legioni che è una rilettura anche del mondo romano e finalmente e finalmente nelle morti e nei funerali come pure in tutte le altre operazioni gesti e azioni ecco allora Calvino che ha cominciato come disegnatore con questi quattro disegni ma poi ne ha fatti altri insomma anche sicuramente il disegno ha qualcosa di particolare e la collocazione di Sosteinber è una collocazione di un autore che per lui tocca insieme scrittura e anche disegno arte del resto poi qui ci sono persone che sanno molto più di me dei manoscritti calviniani scriveva a mano cioè ha cominciato a scrivere non è uno scrittore della macchina da scrivere la macchina da scrivere c'è la foto famosa con gli indici che batte a macchina scrive a mano poi come lui stesso ha dichiarato in un'intervista agli anni Ottanta poi ricopiava con la lente di ingrandimento doveva leggere perché non riusciva a leggere quello che aveva scritto ricopiava di nuova mano e poi passava alla battitura con la macchina a scrivere perché è chiaro che in tipografia non puoi andare con un manoscritto ecco anche perché la scrittura di Calvino che non so se è stata esaminata mai da chi legge le calligrafie insomma è molto particolare molto piccola molto piccola è molto interessante chissà cosa avrebbero detto diciamo i romantici che esercitavano questa questa arte queste parole di Michelangelo qui a Calvino scolvolgono il rapporto tra mondo e arte anziché il mondo come oggetto rappresentabile dall'arte questa è la grande modernità diciamo il contemporaneo è questo il riconoscere una cosa che avevano già riconosciuto nel Rinascimento cioè è la ripresa di un elemento insomma che passa anche attraverso Ariosto ecco è la stessa forma mentis anziché il mondo come oggetto rappresentabile dall'arte e l'arte come rappresentazione del mondo ci si apre un nuovo orizzonte questo è Calvino sempre in cui il mondo vissuto è visto come opera d'arte e l'arte propriamente detta come arte al secondo grado o semplicemente come parte dell'opera complessiva cioè quello che viene detto insomma il tema meta il tema anche postmoderno che alcuni indicano eccetera è un dentro non è non è un fuori e non è neanche un sopra e non è neanche un secondo livello è proprio quello che si chiama l'imbricatura che è un termine della botanica le cose sono imbricate sono anche le cellule hanno degli elementi di imbricatura cioè è un tutto che contiene delle parti e queste parti possono essere come dire dei sotto insieme dell'insisteme dell'insieme maggiore come nell'insiemistica ecco cioè sono operazioni che si svolgono sulla superficie e Steinberg è l'artista della superficie il disegno è l'arte della superficie è l'arte che rivela la superficie che rivela il segno sulla superficie e quindi racconta il mondo come superficie questo per Calvino è assolutamente fondamentale ci sarebbero tante altre cose insomma da da raccontare del loro rapporto so Steinberg scrive ad Aldo Buzzi eh certo questi che scrivono per me faccio una specie di parafrasi no non mi piacciono però guarda Calvino l'hanno il suo Weber l'ha tradotto in inglese è anche meglio in inglese dell'italiano e dice meno male che l'ha scritto lui questo testo questo testo in cui il posto di Solstheim è soltanto alla fine cioè è uno spazio molto piccolo però fa un giro partendo da Cavalcanti arrivando attraverso Galileo Galilei passando per Michelangelo e arriva a Solstheim come se fosse il compimento di questo e naturalmente non c'è scritto ma anche Calvino è il compimento di tutto questo percorso cioè si sente dentro un tragitto in cui l'arte è proprio scienza e arte disegnata mi permetti Marco di fare una sorta di ognuno dei suoi difetti una nota erudita vi chiedo scusi in anticipo per questa nota erudita che è la seguente avete sentito che Calvino cita Michelangelo ma lo cita attraverso Francisco de Orlando aperta parentesi uno potrebbe avere anche qualche dubbio che Michelangelo abbia detto davvero io non lo so mi ci vorrebbe aprire un capitolo che però non ci interessa la cosa che invece mi incuriosisce è che Calvino dice Francisco de Orlando un artista portoghese punto invece la cosa curiosa è che Francisco de Orlando dunque avviamo un po' Francisco de Orlando è un artista portoghese ma è soprattutto un grandissimo disegnatore cioè la cosa impressionante è che lui ha fatto di certi dipinti certo ma ha fatto soprattutto miniature ha fatto questo disegno che è un dettaglio tra l'altro in cui c'è il tema del tempo della cattiveria del tempo e ha fatto dei disegni come questo l'età del mondo siamo che sono che hanno scusate il termine che è assolutamente improprio di una modernità straordinaria insomma l'età del mondo Francisco de Orlando che appunto è venuto qui a Roma nel 38 disegna tantissimo cioè lui qui a Roma disegna tantissimo se non avessimo certi disegni di Francisco de Orlando noi non conosceremmo certi dettagli di Roma Antica e soprattutto del collezionismo di antichità qui a Roma come ne conosciamo e c'è per esempio un disegno meraviglioso di Francisco de Orlando in una collezione che non esiste più in un palazzo che non esiste più il palazzo della valle un disegno che su tutti i libri di storia del collezionismo perché l'ha disegnato Francisco de Orlando quindi vuole il caso che questo personaggio fosse innamorato del disegno lui per primo quindi per quello che mi viene il dubbio che queste parole attribuite a Michelangelo bellissime peraltro che hanno colpito così tanto Calvino non so se siano veramente di Michelangelo allora Michelangelo è l'autorevolezza certo ma Calvino come sempre conta il contenuto cioè conta l'affermazione in sé per sé che gli interessa Calvino è estremamente pragmatico no non è mai lezioso va sempre verso l'obiettivo e cerca di colpire l'obiettivo di andare sul bersaglio non manca prende la mira molto bene e sa quello che vuole che vuole raggiungere Sol Steinberg è perfetto non solo perché l'ha incontrato in quegli anni sulle pagine del Bertoldo ma perché Sol Steinberg racconta leggerezza e pesantezza l'elemento mercuriale e l'elemento Saturnino che stanno nella prima lezione americana Sol Steinberg è il vecchio mondo che guarda il nuovo mondo americano con sarcasmo con ironia e anche come dire catturato da quel pragmatismo americano quello che Calvino poi ha raccontato in un ottimista in America titolo perfetto da questo punto di vista è anche ironico è anche ironico il titolo perché Calvino diciamo presenta una faccia pessimista ma è proprio la perfetta realizzazione di una battuta che sta in un libro di Zinoviev che è un libro di Adelphi che adesso è passato diciamo dimenticato Zinoviev era uno scrittore russo del dissenso si chiama Cime Abissali sono due volumi pesantissimi dentro c'è una battuta che potrebbe essere di Calvino dialogo tra il pessimista e l'ottimista il pessimista peggio di così le cose non potrebbero andare l'ottimista potrebbero potrebbero ecco questo è Calvino cioè diciamo dal 56 dalla fine insomma il fallimento della resistenza l'avvento della democrazia cristiana una giornata di uno scrutatore che poi comincia nel 53 63 poi l'invasione dell'Ungheria insomma tutta questa cosa è l'ottimista è il più ottimista ecco in questo cioè la gara con Pasolini che è una gara di vitalismo dalla parte di Pasolini ma è una gara in cui l'ottimista la vince sul pessimista secondo me alla fine ecco questo è no no questo qui è sempre Steinberg qui diciamo nel coro del tempo questo testo di Calvino succede qualcosa di diverso cioè qui siamo davanti a quello che i greci chiamavano ecfrasis cioè lo scrittore che cerca di rendere con parole quello che è l'immagine che è davanti a sé insomma è un tema e diciamo qui un esempio che non abbiamo tempo per fermarci insomma ma lui proprio qui vedete qui c'è la copertina di New York di Steinberg e tempo dopo che passano alcuni anni appunto Calvino fa appunto questa sorta di ecfrasi cioè descrive e reinterpreta e allarga quello che è il disegno è fedele e a medesimo tempo se ne distacca ecco io qui volevo sempre con questa mia permettetemi mania erudita volevo tornare un po' indietro perché cioè quello che colpisce leggendo Calvino leggendo Steinberg è questa come dire permanenza di certi cardini della nostra cultura insomma cioè il tema di questa permeabilità tra scrittura e disegno è un tema che è lì da millenni insomma così il punto e volevo farvi vedere questo famoso celeberrimo cratere di Ofronios quindi un ceramista un pittore greco del 515 circa avanti Cristo adesso è Cerveteri e qui in alto lassù in alto ci sono naturalmente qui vorrebbe la pena notare che sì ci sono delle didascalie come come fosse una vignetta no? questo qui è Hypnos quello qui è questo qua è Thanatos è la morte eccetera eccetera però lassù in alto c'è la firma e la firma sapete com'è? è in greco più o meno Eufronios Egrapse cioè scrisse i greci usavano lo stesso verbo per indicare la scrittura e la pittura quindi siamo di fronte di nuovo a questa inseparabilità di questi ambiti no? la scrittura è una pittura e la pittura è una scrittura Egrapse e insomma se volessimo non lo facciamo ma troveremmo insomma prima di Steinberg prima di Calvino tutta una serie di episodi in cui il disegno viene visto come la base assoluta dell'arte qui è Giorgio Vasari siamo alla metà del Cinquecento esattamente alla metà del Cinquecento non c'è arte che possa prescindere da questo momento che è il momento del disegno e addirittura c'è questa connessione vedete fra il disegno e il divino addirittura no? a metà del testo e lo stesso Vasari che probabilità è Plinio ma probabilmente anche Vasari che riporta l'origine del disegno cioè il disegno è l'origine di tutto come nasce il disegno per gli antichi? nasce così cioè un'innamorata che disegna il profilo su una superficie il profilo dell'amato sì è un aneddoto raccontato già appunto in Plinio e ripetuto tante volte dai pittori nei secoli seguenti ecco io volevo fermarmi un momento su un altro aspetto cioè ho fatto un'operazione un po' così un po' forzata ma neanche troppo probabilmente ho messo in fila alcune parole che Calvino usa per parlare appunto di Steinberg o per meglio per diciamo presentare Steinberg giusto a me dice che Marco non ne parla mai nel testo del del 77-80 insomma svolazzo arabesco filo di scrittura volute ghirigori figure lineari filiformi figure minuziosamente tornate sono tutte parole di di Calvino e qui invece ho tratto da tutt'altro testo altre parole di Calvino in cui come vedete c'è questo tema che il primo narratore della tribù cominciò a preferire parole per dedurre una spiegazione del mondo dal filo di ogni discorso racconto possibile dall'arabesco che nomi e verbi soggetti predicati disegnavano diramandosi gli uni dagli altri cioè mi ha colpito questa presenza del tema dell'arabesco non può essere casuale insomma non può essere casuale e allora mi sono accorto che Dio non è che sia una grande scoperta ci sono accorti già tanti altri ma insomma che il tema dell'arabesco è un tema che innerva la storia della cultura la storia dell'arte e ecco la sorpresa la storia dell'atteratura cioè la storia dell'atteratura è c'è tutta una serie di figure che riflettono sull'arabesco che uno dice ma cos'è l'arabesco questo è un esempio di arabesco di inizio ottocento ma perché è così importante Goethe dedica un saggio all'arabesco quindi il tema di questa ma come mai perché appunto per Goethe questo tipo di questa forma e forme simili le faccio vedere sarebbero tante altre forme come questa questa qui appunto è una illustrazione di un testo poetico di Goethe come vedete la linea anche qui è assolutamente fondamentale perché appunto nell'idea di Goethe e non solo di Goethe l'arabesco cioè questa presenza di svolazzi di fili di figure sottili eccetera eccetera è un luogo in cui si interfacciano i testi e le immagini e quindi l'arabesco è che anche Calvino abbia alla lontana sentito questa grande pesantezza del ruolo dell'arabesco basta pensare al finale del barone cioè il filare dice questa è un filo che si dipana poi ci sono gli acini adesso bisogna prendersi non lo so a memoria ma per me era stato un colpo di fulmine perché io insegnavo in un studio d'arte dove l'italiano e storia che le materie che io insegnavo erano le meno importanti perché c'era progettazione disegno dal vero disegno geometrico i laboratori insomma educazione visiva eccetera e a un certo punto ho fotocopiato quella finale e l'ho distribuito agli studenti come se fosse un'ora di disegno chiedendo di disegnarlo ecco perché era proprio cioè è proprio estremamente visivo ma è estremamente concettuale al tempo stesso cioè le due cose si toccano in modo strenuo perché il disegno è la forma espressiva più concettuale che esiste e adesso qui bisognerebbe parlare del testo di Paolini insomma concettuale in senso ampio ecco naturalmente poi c'è anche il concettuale come linea artistica che è stata diciamo in cui l'Italia ha avuto un ruolo visivo e non linguistico come invece il concettualismo americano che è molto più legato appunto a Peirce agli aspetti linguistici molto di più noi siamo visivi cioè la visività è la cosa che ci appartiene basta guardare questa stanza adesso con queste poche luci o tante guardate cosa diventa lo spazio qui disegnato la luce disegna lo spazio la luce disegna le città disegna le campagne insomma la luce naturale la luce artificiale quindi per noi il visivo è il concetto stesso insomma poi puramente anche come dire la radice ebraico cristiana insomma il mondo appare perché si è fatta la luce ecco e il mondo diventa una forma ecco direi che anche senza diciamo senza dirla in modo così esplicito però in Calvino ci sono tutte queste tematiche insomma questi modi di essere il finale del barone è bellissimo ecco proprio è la forma stessa del mondo è questo filo che per pagine e pagine si dipana eccetera perché poi il dipanarsi anche che è il dipanarsi dei problemi il dipanarsi dei pensieri il dipanarsi dei segni ecco anche lì dovrebbe andare come dire a ricercare un po' da dove vengono queste parole come arrivano nella nostra cultura e come si sono come dire sono entrate uno che ha fatto il liceo classico non può non aver incontrato queste espressioni sì anche questo qui è un altro arabesco per dire come il tema della linea del groviglio del dello sfilacciarsi delle figure qui parlo invece questo è un testo di una frase di Steinberg sono uno scrittore appunto sono uno scrittore disegno perché l'essenza di uno scritto riuscito è la precisione e perché il disegno è un modo di espressione preciso e qui ho messo in alto vedete così un po' la parola acribia perché il tema della precisione è un tema che guarda un po' è un tema che ricorre tantissimo nella critica d'arte antica appunto cioè non è una scoperta nostra neppure di Steinberg cioè il tema della precisione acribia dicevano i greci acribia la precisione con cui io disegno e per darvi un'idea di cosa significa precisione ma è solo un'idea ho scelto questa Athens Greece del 78 di Steinberg è il centro di Atene oggi negli anni 70 e guardate vi faccio un ingrandimento perché qui si vede molto bene come lui proprio da vero architetto ha disegnato addirittura ha fatto tutta una serie di reticoli un reticolo architettonico che precede la 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 il disegno vero e proprio insomma il tema della precisione il tema dell'esattezza che è un altro tema che lo accomuna senz'altro sempre per rimanere nel tema di questi cardini di questi cardini culturali che poi è il tema se vogliamo in un certo qual modo della come dire della contemporaneità del non contemporaneo e poi la fine è questo guardare certi aspetti della storia della cultura vedi che il tempo salta come dire i tempi non si tengono più cioè trovi appunto analogie forti tra tempi diversissimi insomma quello che di Huberman chiama l'anacronismo l'anacronismo e Benjamin proprio questo tema della contemporaneità cerco di usare sono parole ancora di Steinberg un alfabeto molto povero di sogni per esprimere idee che possono essere molto complesse e complicate per questo il disegno è molto vicino alla poesia che usa parole comuni per spiegare cose molto complesse e anche questo qui ut pittura poesis è il tema millenario è il caso di dire del rapporto fra arti visive e poesia ancora una volta è lui proprio che tira fuori questi temi è proprio Steinberg in prima passione non siamo noi che lo investiamo di idee nostre è lui che tira fuori questo parallelo che è un parallelo storicamente lunghissimo percorre tutta l'antichità classica percorre tutto il rinascimento e così per chiudere ma per chiudere provvisoriamente non so cosa pensi di fare no il tema del 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 rapporto fra scrittura e linea e disegno è un tema che Steinberg usa tante volte anche quando la scrittura non si capisce anche quando quando la scrittura è illegibile no come in questo caso vedete questo questo ex voto qui gioca gioca tantissimo è una parodia degli ex voto che avrà visto certamente in Italia chissà quante volte insomma forse anche in Abruzzo chissà dove l'ha visti per grazia ricevuta ex voto ecco qui questa signora che sta stava piantando un quadro un quadro di Mondrian è caduta e non si è fatta nulla insomma e sotto c'è la motivazione che è totalmente illegibile e quelli che Roland Barthes ha chiamato riferendosi a proprio questi tipi di simili writings sempre Steinberg naturalmente quindi persone che parlano probabilmente non si capiscono perché insomma il fumetto è illegibile ecco qui sempre con la mia mania erudita e ve ne chiedo anche un po' scusa insomma non è la prima volta che l'illegibile compare nelle immagini nella storia delle immagini nella storia dell'arte tante volte la cosa bella è questa tantissime volte no nelle pari dell'altare rinascimentale tu rinascimentali tu vedi che i santi o in questo caso la vergine hanno vedete attorno o addosso più esattamente addosso delle scritte che sono i caratteri cosiddetti pseudocufici caratteri orientali naturalmente illegibili e scritti per essere illegibili ma puramente decorativi siamo tornati qui a Steinberg vedete siamo nel 64 persone che dialogano tra loro stando sul divano sul sofà e appunto le immagini che diventano le parole che diventano ornamenti le parole che abbondano in questa sorta di autogeografia che sono i cd che lui ha fatto mi immagino sono tutti i posti dove lui è stato lì in fondo c'è il catalogo che abbiamo fatto dove Claudio ha scritto parecchie cose per la mostra di Sosteinberg che è stata qualche anno pochi anni fa alla triennale a Milano che è la mostra di Sosteinberg più importante che è stata fatta dopo la sua morte per il numero di curato da Marco Ripollino io ho curato alcune cose sono i luoghi dove lui è stato c'è stato chi li ha trascritti tutti ha cercato gli equivalenti insomma dei posti dove è passato cioè la scrittura l'appunto per esempio è un altro bellissimo argomento gli appunti ecco che sono punti che si applicano da qualche parte insomma anche questo cioè c'è proprio un lessico comunque va bene io direi che possiamo data l'ora anche se c'è anche qualche intervento qualche domanda sì siamo a disposizione se ci sono delle domande no no mi sembra tutti va bene proprio niente non volete sapere nulla sì io avrei una domanda prima Claudio ha illustrato una frase quella dell'arabesco se torniamo indietro no ancora indietro ecco sull'alzo arabesco figlio di scrittura volute diritori figurerie sono tutti termini che si usano per la scrittura questi cioè per indicare caratteristiche della scrittura artica quindi è molto interessante anche questo sono le parole di Calvino sì sì infatti 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 quindi mi sono incuriosiva perché c'è sempre questa sovrapposizione dall'aspetto della narrazione figurata diciamo così e della scrittura intesa come calligrafia no che poi diventa sull'alzo arabesco filo di scrittura volute chirigori incomprensibili così io posso chiedere solo brevemente sulla questione del gesto cioè il gesto della scrittura e il gesto del disegno se su questo c'è qualcosa che potete aggiungere a ovviamente senza rubare troppo già tardi la scrittura è un tema che riguarda la storia dell'educazione direi più che altro tanto però meno mentre lei parlava mentre lei faceva questa domanda mi viene in mente queste tavole non so se sia un riferimento giusto ma queste tavole di fine settecento o forse anche prima della fine del settecento in cui insomma in realtà l'illuminismo ecco che dà tantissima importanza al modo in cui lo scolaro sta seduto e appunto impugna gli strumenti della della c'è una tavola in sorvegliare e punire di Foucault certo sì sì è un momento importante quello della della postura del che implica appunto il modo giusto di pensi si pensa anche molto per esempio a me mi ha dato tanto in mente mentre vi ascoltavo entrambi ovviamente al giapponese questo ecco me l'avete non so perché mi sento che mi avete trascinato voi in queste due queste intrecciate di queste sì beh c'è il viaggio che Roland Barth fa in Cina dove questo elemento poi insomma poi Barth ha scritto una voce che era rimasta inedita che è stata pubblicata a posto ma proprio sulla sulla tematica della della scrittura ecco anche Roland Barth è un anello di congiunzione sia Barth che si è interessato di Steinberg perché ha scritto il più lungo saggio mai dedicato a Sol Steinberg l'ha scritto Roland Barth che è pubblicato in quel numero va bene è pubblicato anche nei libri di Barth in quel numero di riga dedicato a Sol Steinberg e a Calvino interessava molto tutto questo interessava molto certo lui inclinava più verso il tema del disegno però anche noi sappiamo che anche Roland Barth disegnava e dipingeva ci sono mi ricordo insomma c'è stata una mostra che è stata anche qui a Roma sì al Casino Bola di Ceni sì sono quasi 40 anni fa dove c'è un catalogo anche quella è un catalogo eletta dove ci sono i disegni anche giapponesi di Barth insomma quindi è proprio un nucleo di autori che che respira la stessa aria poi ce ne sono altri ecco che anche in ambito per esempio americano che però hanno per esempio Vonnegut è un autore che ha riempito soprattutto nei primi libri disegnava si disegnava le copertine anche dentro ci sono dei disegni che anche lì vanno verso il ghirigoro comunque tendono a un tipo di rappresentazione così ecco è vero che lui viene dalla cultura tedesca insomma è il figlio di immigrati dalla Germania insomma e poi anche lui aveva fatto studi di architettura si era indirizzato verso queste cose insomma si era occupato di pubblicità ecco per una mi sembra la General Electric che è questa insomma questa grande produttrice di energia elettrica americana quindi esistono esiste proprio una serie di autori che respirano qualcosa di molto simile che probabilmente ha qualcosa di rinascimentale ma anche attraverso Goethe perché comunque Goethe viene in Italia fa gli acquerelli insomma arriva fino in Sicilia e ha tutta una rappresentazione insomma si dice che era un genio totale che è stato il genio totale dalla poesia al disegno al romanzo alla botanica certo i temi diciamo della filosofia della natura di Goethe insomma che sviluppano quelli del romanticismo però credo che queste cose vandano un po' a confluire in modo sotterraneo insomma un po' carsico dentro molte di queste avventure letterarie ecco insomma siccome Calvino è ancora forse anche in questo ambito ancora si può ancora fare pop non è stato scritto tutto insomma nonostante questa mostra nonostante le cose che ho fatto anch'io c'è molto altro da tirar fuori insomma di interessante va bene grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti